Una giornata per presentare il manifesto della professione, un confronto diretto con i territori sul futuro della categoria. Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali è pronto per una nuova consigliatura e il presidente uscente, Giampiero Giovannetti, sottolinea la ricetta per mantenere forte l'istituto e il suo ruolo chiave nella crescita delle professioni. L'auspicio che posso fare io dal presidente uscente è quello dell'unità, perché come dico sempre uniti si vince e divisi si perde. Non mi piacerebbe che ci fossero le solite divisioni che recentemente nelle ultime elezioni si sono manifestate, speriamo non ci siano, speriamo di trovare la quadra per fare una squadra condivisa. Io credo che le capacità che hanno i nostri dirigenti territoriali di mediazione e di mettere insieme tutte le loro migliori risorse in fatto di persone che hanno, riusciranno in questo intento. I territori hanno avuto l'intuizione di mettere anche in fila dal punto di vista delle preferenze quali sono le priorità delle cose da attuare. Sono tante cose, sono diverse cose, sono tutte contenute nel documento che poi pubblicheremo, ora non sto a rammentarle tutte. Credo che sarà un utile lavoro per il Consiglio nazionale che tra poco si insedierà, se ne vorrà tenere di conto ovviamente.